Un documento che fissa gli obiettivi del nostro paese per le politiche non solo ambientali ma anche sociali ed economiche è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di cui si è parlato nel recente forum della PIA a Roma. L'occasione è un convegno promosso dal Ministero dell'Ambiente che ha fatto il punto sulla sua prossima approvazione. Le regioni hanno seguito lo sviluppo della strategia e ora sono chiamate ad esprimere un parere. Il documento della strategia è già girato fra le diverse regioni e ora noi lavoriamo per completare un documento di sintesi che contenga tutte le osservazioni delle regioni. Naturalmente abbiamo apprezzato questo cambio culturale di impostazione della strategia rispetto al documento del 2002. Un contributo all'attuazione della strategia a frutto del dialogo con associazioni, mondo della ricerca e istituzioni potrebbe arrivare dai nativi digitali vista la grande importanza data all'educazione. L'educazione non solo riferita ai bambini e ai giovani ma riferita a tutti. Gli adulti sono i primi che devono comprendere questo grande cambiamento ambientale e sociale. Allora come fare? Come arrivare a tutti? Dobbiamo utilizzare strategie diverse, strategie che siano più flessibili, che siano tecnologicamente avanzate, che siano più attraenti.